Ciao ragazzi e ben ritrovati in Android Inc. 91 nel video speciale per questo Natale. Uh Natale, festa profana. Comunque il gioco è Visera Cleanup Detail, Santa's Rampage. Guardo di qua perché me lo fa mettere solo sullo secondo schermo e quindi niente, mi tocca stare completamente girato per capirci qualcosa. Comunque è un gioco relativamente vecchio che però ha ricevuto un aggiornamento nel 2019 quindi perché non portarlo come speciale per queste feste natalizie un po' particolari. E non è il gioco più adatto però. Ah hanno messo la modalità co-hop, io sapevo che c'era solo la modalità singola quindi va bene. Nessun salvataggio, inizia il lavoro, bene. Santa's Workshop. Ho 44 anni, mi chiamo Pulitore giustamente, l'ho scelto io il nome. Ehi, 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 cominciamo alla grande ragazzi, guarda oddio. Ma ha sparato agli elfi, questo gli manca la testa. Ah ho pulito, ah oiii. Io non sto provando cose a caso. Ah giustamente il mocio si sporca di sangue. Ma non è che più tocco il sangue più si sporca? Non esiste questa cosa nel... Ma vabbè, allora mi... Fermo. Fermo Andrea, fermo. Ah ok, posso prendere le co... Scusami. Ah, per girarle è così, ok. Guarda che roba. Non c'ho le mani. Ah, qui troviamo altri elfi. In effetti si posso prenderle, no? E se l'appoggio qui? Non va? Qui, eh, qui dentro. No, non va. Ah, disposal beans, ok. Quindi ci dovrò mettere qualcos'altro. Allora scusami, facciamo una cosa, no? Ehm, questo qui mi dà... Slosh-o-matic. Ah, quindi mi dà... I secchi da... Ok, bruciamo il corpo. Non lasciamo prove ragazzi, non bisogna lasciare prove di questo massacro natalizio, anche se... Ciao Larry. C'è sempre un elfo che si chiama Larry. Chi ti ha ridotto così? Borda... Ma quello... Eh, ma tu come ci sei arrivato lì sopra? Ma ce l'hanno infilzato. Ah, ah, lì c'era un altro! Non ci ho fatto caso prima. Allora, aspetta, diamo questo... Ecco, lascia i secchi, sì. Non si può dire che il lavoro... Ma put... Sarai maledetto? Ok. Ma ce l'ha tirato da solo! Cosa? Ma che cosa... Ah, pezzi di intestino! Certo. Non così però. No, che sto facendo? Vabbè. Ormai... Ho fatto un casino ragazzi. Mi chiamano pulitore ma non sono buono manco a pulire la cacca del cane. Eliminiamo le prove. Eh, guarda... Ehi, che cavolo! Ah, sto cammino brucia tutto. Se lo prende qua un po' di legna... Oh, che cacchio è? Ma... Questo... Oh mio Dio. Questo sto coso l'ho visto da qualche parte ma non mi ricordo dove. Dicchiere a nemico. Ah, un sgabello. Sarà una buona legna da ardere. Vai. Perfetto. Ah, intanto mi faccio un giro. Tanto come pulitore ho visto che valgo a poco. Ah sì, ok. Un bossolotto. Un regalo. Scartiamo i regali. Ci sono un po' di regali effettivamente qui, eh. Eggnog. Ah, certo, zabbaglione. Cavolo. Eh! Ma questo è una... Questo è teatro di uno scontro epico. Non faccio la reference perché tanto so che la conoscete. Una bambola voodoo. Con un coltello molto brutto affilato. Dinamite! E candelotti. Singoli. A parte che abbiamo bottiglie... Di Jack Daniels. Ma avendo un candelotto di dinamite in mano... Sapete cosa? Tanto c'è un casino tremendo qui. Se ci buttiamo una bomba non facciamo più pulito? Che cacchie... Che cacchie... Ehi! Ma... Cosa... Perché quell'esplosione a catena? Cosa c'era qui? Ma era aperto anche prima questo? E sta sedia? Ma era aperto anche qui prima? Non ci ho fatto caso se era aperto? Ma che è la roba? Mamma mia che disastro raga! No 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 no! Uh salve! Vabbè non è proprio chiara l'immagine... Ma come? Ma... Come c'è arrivato quello? Ah ma abbiamo anche immagini insomma cristiacei... Cioè dal punto di vista... Puramente visivo... Nooo... Gianni... Cavolo guarda qui come li hanno... Mamma mia... Snowistaffer's cosa? Ma le renne! Nooo... Rudolf... E chi gli consegna quest'anno i regali? Con chi va a babbo a consegna regali? Ah ma Pixie Jungle Fit sono tipo... Tipo delle canzoni? Da mettere poi? Ma guarda quante bottiglie! E' una Molotov? Le baguette? Certo un vino francese le baguette... Allora le Molotov in genere fino a quando non le lanci... Puzzona, puzzona di Eva... Ma chi fa? Segui una linea cos'è? Evviva la fiamma! Sì qua un altro elfo morto... Ma è intero! Sotto c'era Gianni e questo è Pinocchio... Oh nooo 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 nooo... E lascia! Quanti ne hanno... Ma questi non si sono salvati dalla furia di babbo! Nooo nooo nooo... Poveri elfi! Sono un po' creepy eh... Però non avevano... Non dovevano morire in questa maniera... Bella non è... Allora mi sembra di aver esplorato tutto... E ragazzi non mi sembra il caso di pulire questo massacro... Quindi la cosa migliore da fare è prendere della dinamite... E ucciderci insieme alla dinamite... Perché se no qui... Finiamo di pulire che si che è praticamente... Passa un anno... Davvero ok... Portami con te bomba! Buon Natale! 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 Grazie.